Hello bad guys, benvenuti in questo nuovo video. Oggi continuiamo con un nuovo episodio di Best Box Edison, una rubrica del canale volta ad aprire quelli che io reputo i migliori box appunto per il formato Edison in questo caso, che avrà come protagonista Crisi Scarlatta. Più di qualcuno di voi mi ha chiesto nei commenti quali fossero i box migliori per questo formato ed eventualmente quali acquistare. Di conseguenza ho deciso di portare questa rubrica settimanalmente, cioè periodicamente, anzi, sul canale in cui spostiamo assieme i vari prodotti andandole anche a commentare. Prima di continuare, se vi piacciono contenuti retroforma, Edison, Tenguplant e in futuro tempo permettendo altri formati oppure unboxing di prodotti abbastanza vecchiotti relativi ai formati citati TCG o CG, iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace e un commento. Vi costa un minimo del vostro tempo mentre guardate il video, è gratis ma soprattutto supporterete il canale e il mio lavoro. Tornando a noi, perché Crisi Scarlatta? Diciamo che Crisi Scarlatta è una delle espansioni secondo me più importanti per il formato Edison dato che introduce alcuni supporti Blackwing non indifferenti. Basti pensare al Maestro Armatura La Nera che è probabilmente la money card dell'espansione che abbiamo davanti, ma anche supporti come Sirocco o mi pare anche lo stesso che Litturbine, ma anche qualche carta interessante per il reparto assalto. Obiettivamente Blackwing può essere definito secondo me uno dei più forti, se non il mazzo più forte del formato basandosi un po' anche sulle top del torneo, anche con dei tornei anche assieme a Frogmonarch. Quindi detto questo andiamo a vedere un po' cosa ha in servo per noi il pack. Allora, solita premessa, come al solito, essendo un pack coreano, scritto anche qui non so legge il coreano ma i numeri fortunatamente sì, sono 40 bustine di cui ogni bustina ha 5 carte. Quindi andiamo ad aprirlo e spero che si veda, dato che sto registrando questo video di un bel sabato sera, sono solo a casa, quindi ne approfitto un po' per dedicarmi un po' a YouTube nel tempo libero, quindi faccio un po' di sbussatine così. Ok, vediamo un po' come partiamo con questa espansione. Ho cambiato PlayMath semplicemente perché non era il periodo associato del 2009, non mi ricordo l'anno di uscita, ecco la prima carta assalto. Soprattutto essendo sera spero che si vedano le carte perché ho paura che sia troppo luminoso. Ecco qua, ho spostato la luce, quindi scusate nel caso del taglio o eventualmente della pausa lunga. Direi di continuare. Ah, questa è scritta metà in inglese e metà in coreano, non so come funziona il coreano. Allora, chi ha altre carte interessanti? Allora, diciamo che è un'altra carta che bene o male mi interesserebbe trovare, devo essere sincero, è anche lo stesso Arcidemone e Drago Rosso d'Assalto perché di base questa è molto forte, questa è molto forte, giocatela in, come si chiama, in Frog. Comunque stavo dicendo che l'Arcidemone è uno dei miei mostri pure preferiti in generale, era probabilmente forse la carta preferita di mio fratello, l'Arcidemone e Drago Rosso. Ah, questo da noi si trovava alti, mezzo nero, mi pare fosse anche un tuner. E altra cosa da dire è che molte volte le rarità di alcune carte sono diverse da quelle da noi in Occidente. Per esempio, come vi ho accennato ora, questa carta qui da noi si troverebbe altrimenti ultra. O la Bestia d'Assalto, molto forte. Anzi, a proposito della Bestia d'Assalto, se volete scrivetemi qui sotto nei commenti se volete la decklist per l'appunto del mazzo Assalto, che secondo me è uno anche dei mazzi migliori del formato e più sottovalutati. Oddio sta carta! Questa qui mi ricordo che ero ancora, diciamo, avevo appena intrapreso a giocare a Yugi, almeno perché avevo iniziato sempre con l'anime, però diciamo ho cominciato a avventurarmi nel periodo 2010. E mi ricordo che il mio mazzo mischione... Uh, Black Salvo, attenzione, ecco un'altra carta molto interessante per il formato, la cannonata nera mi pare. Vabbè, comunque giocavo con la carta lì, la giocavo nel mio mischione, giocavo proprio a random, mamma mia. Che poi secondo me, ragazzi, più diventi cosciente del gioco, secondo me più... più... Cioè, anzi, e meno cominci a divertirti, per certi versi. Ok, la prima ultra, che è l'Hypernova, non mi ricordo come si chiama, comunque è quel sincro Assalto. Ok. Abbiamo la prima ultra del box. Speriamo in Ultimate diversi da questa, dato che è una carta che non mi interessa. E da quel che mi ha riferito un mio amico, ogni ultra all'interno del box è possibile. Uh, The Priest Dragon, altra carta ottima. Ogni carta ultra può essere trovata Ultimate all'interno di un box coreano. E per quelli che ho aperto appunto sul canale, ripeto, se non l'avete visto andatevi a vedere, statisticamente, uh, l'altra ultra, un altro Assalto. Sto vedendo anche un mazzo con lui, che secondo me è interessante. Quindi fatemelo sapere sempre nei commenti, se dovesse interessarvi. Lasciate sempre il mi piace, come gli chiedevo. Comunque, stavo dicendo che ogni ultra viene trovata come Ultimate. e vabbè, dovrebbero esserne due a box, se non vado errato. Allora, diciamo che è iniziato abbastanza bene. Abbiamo carte abbastanza interessanti, anche se le ultra obiettivamente non sono, diciamo, nei nostri interessi. Oh, questa è una carta molto, molto forte. Infatti me la metterò lo stesso da parte. È una carta decisamente forte. Se giochiamo quel dado, quantomeno il teletrasporto di emergenza. Ricordo questa carta, ragazzi. Date un'occhiata, volendo, al mio, che si chiama? L'Assalt Magician Assault Turbo. È un mazzo che appunto sfrutta, manco a dirlo apposta, il Mago di Arcanite. Mago di Arcanite, l'apprendista arcano. Ed è, secondo me, un for fun molto carino, molto unexpected. Che, secondo me, è molto, molto divertente da giocare per allontanarsi un po' dalla consuetudine del, diciamo, del meta ricorrente. Ok. Oh, questo è il tuner che invece sfrutto nella lista sincro. Eh, sincro, scusate. Jubel sincro, che è anche qui presente sul canale. Perché, ragazzi, per esempio, per chi non lo sapesse, varie decklist scaricate qui sul canale, dal Chaos Quickdraw, all'Assust Dragon, che è uno dei miei massimi preferiti del formato. E, soprattutto, se avete magari qualche richiesta in particolare per qualche decklist, volete un'analisi, qualsiasi cosa, scrivete qui sotto nei commenti le richieste in merito a, diciamo, un decklist che vorreste vedere. E, caso che aveste bisogno di, ops, di supporto, esiste il sia, vabbè, esistono sia i miei social, ma, secondo me, ancora meglio, anche con l'intento di creare una community, community, perché il mio obiettivo un po' è quello, creare una community solida e non tossica. Questo è da sottolineare, non tossica. E, a proposito, poi magari, vorrei parlare un po' meglio di questo brutto aspetto, purtroppo, della società di internet, se dire, comunque c'è il server Discord, che è un, vorrei chiamare un luogo sicuro, no, un po' troppo esagerato, un luogo sicuro, comunque, un luogo in cui conoscersi, e siamo ancora pochi, ovviamente, però, chiunque voglia venire, è il benvenuto, se vuole condividere le proprie idee, ha bisogno, appunto, di consigli, su qualche lista, sono a disposizione, anche con, con i modi, insomma, qualsiasi cosa, ci siamo, magari avete bisogno di compagnia, un sabato sera, provate a scrivere nel gruppo, magari qualcuno rista, non lo so, oh, una super, per sbaglio, scusate, ho saltato una carta, diciamo che con la felpa che ho addosso, sto cominciando a morire un po' di, di caldo, devo essere, sincero, pensavo cominciasse a fare più freddo, invece, fa caldino, che poi è arrivato tutto d'un botto, sto caldo, maledizione, ok, oh, il trapiter, ottima carta di, di side, in Edison, è un tuner di, livello 4, probabilmente uno dei, dei pochi esistenti, con, il vago Flamble, il Debris, sì, ma ha, diciamo, il, il constraint, del, oh, l'allieno, mi ricordo, per evocare il, vabbè, il drago di, livello 8, adesso, un mostro drago, scusate, il sincro, e, niente, vabbè, questo mi, mi interessava, devo essere sincero, perché, alien, è pure un mazzo, secondo me, molto figo, in, in, in Edison, comunque sia, questa espansione, secondo me, io, ora, lo chiamerò, per Edison, oh, eccolo qui, il mago di Arcanite, ottima carta, decisamente, ottima carta, e ottimo box, per quanto riguarda, pool di, di carte, assolutamente consigliato, ragazzi, pensavo che, fosse peggio, invece, andando a sbustare, a un po', a notare, nei, nei ricordi, decisamente, decisamente, un ottimo, un ottimo box, un ottimo box, a dir poco, e, stavo dicendo comunque, che, secondo me, è anche un ottimo box, per quanto riguarda, il formato, Tengu Plant, che, per quanto riguarda, le carte utilizzate, e il meta, obiettivamente, è molto, ma molto, vicino, a Edison, eccolo qui, di questo, vi parlo, ah, che è una super, qui, non è una ultra rara, è lui, praticamente, ok, questa anche, forte, mi serviva, ottimo, sono molto, molto vicini, comunque, Tengu Plant ed Edison, anche se, per questi personali, preferisco, il, il, Tengu Plant, diciamo, per alcune, diciamo, scelte, eccolo, qui, l'abbiamo trovato, l'abbiamo trovato, la cover card, eccola qui, molto bella, è molto bello, scusate, eccola qui, bellissimo, bellissimo, ultimate, la prima ultimate, se troviamo il black wing armor master, sono veramente felice, di questo box, veramente contento, però, contento, ugualmente, di aver trovato, ah beh, abbiamo trovato, la seconda ultimate, così, di fila, sempre lui, avrei preferito, il black wing armor master, però, diciamo, è figo, aspettiamo più qua, perché qua, purtroppo, c'è troppa, c'è troppa luce, e potrebbe darvi, darvi fastidio, devo stare a notire, ecco, continuiamo, scusate, ok, ah, è vero, c'è anche lui, come GB, GB, molto, molto, versabile, con le testa, che non mi pare ci fosse la, la combo, ok, sto veramente cominciando, non a star male, però, a sentire il caldo, quindi, ragazzoni, fra poco, penso che mi toglierò, la felpa, ok, non me ne vogliate, mi tolgo un momento la felpa, ok, decisamente, meglio, ok, mi spiace non aver trovato il Blackwing Armour Master, però, fa niente, fa niente, ci, ci va bene lo stesso, però, magari possiamo trovarlo sempre ultra aro, o no, perché no, due ultra aro, l'abbiamo, mi sa, già trovate, quindi mi sa, queste sono, diciamo, le carte più grosse, possiamo trovare solo, le super, ma, possibile che, Sirocco, non ne abbiamo trovato manco uno, a meno che non sia di una rarità superiore, però, mi pare strano, perché, Sirocco, almeno da quel che ricordo, doveva essere, in questa espansione qua, magari mi sbaglio, eh, ecco, borra la lancia, infatti, ci sta, quindi dovrebbe starci anche Sirocco, quindi capite bene un po' l'impatto che ha avuto la crisi scarlatta all'interno di Edison, cioè all'interno di Edison, durante il periodo d'uscita, che obiettivamente sono queste le carte, eh, cioè ci sono fra le carte che più conosciamo, per l'appunto, cioè, guardate qua già un pochettino, quante scene sono, questo è un pack più largo, ecco, forse c'è qualcosina qua, ma non credo, ecco Gale, ok, facciamo così, ok, mancano, quattro pack, li mettiamo qua, non so quanto sia saggio la scelta di averli, messi qui, perché, potrei urtare la fotocamera, per, prenderli, uno, due, e, niente, allora, abbiamo trovato, quattro super, quindi, mi sa, ragazzi, le foil dovrebbero essere forse finite, e mi sa di sì, quindi, forse, troveremo solo comune e rari, d'ora in poi, che mi scordo, è incredibile, come, nonostante ne abbia aperti, i vari, abbiamo fatto vari episodi, per l'appunto, e dica sempre la stessa cosa, nei video, incredibile, non mi riesca mai a ricordare, del fatto che, ne voglio aprirsi assieme, questi due, questi due pack, non mi riesca mai a ricordare, del fatto che, ehm, siano, quel numero di, di carte, ok, uno, due, quattro, e cinque, ok, uno, due, ok, quello, e infatti, avevo ragione, ok, ragazzoli, di base, sono queste, le nostre foil, sono abbastanza soddisfatto, avrei preferito, magari, trovare, come, ultra rara, anziché, lui, se lui, mi piace un sacco, l'hardwork, devo essere sincero, però, due ultimate, forse sono un po', troppo, però, di base, sembrerebbe, che, nei box coreani, è un po', tipico, trovare, la stessa, la stessa ultimate, nel, nella box, comunque sia, come vedete, scusate se ho fatto tremare la telecamera, le carte che si trovano all'interno, sono, molto, molto utili, danno accesso a varie, vari mazzi all'interno del formato, quindi, io, è uno dei mazzi che più vi consiglierei, caso che voleste acquistare, appunto, formati, e i formati, box coreani, e fra i più consigliati, ecco, quindi, io vi ringrazio, per guardare il video, fino a questo punto, e, ci vediamo, il prossimo video, con una decklist, o, un nuovo episodio, di best box, best Edison, box, magari, potreste anche, suggerirmi, qui sotto, nei commenti, quale vorreste, vedere, e piccolo spoiler, per il prossimo, diciamo, box, che riguarda, più che Edison, Goat, abbiamo, servitore del, faraone, quindi, fatemelo sapere, anche qui sotto, nei commenti, se vorreste vedere, servitore del, faraone, che, non consiglio tanto, per, tutte le carte in sé, ma, per la dust shot, e la, metamorfosi, quindi, grazie ancora ragazzi, per aver guardato il video, fino a questo punto, e a vedere, arrivederci, e al prossimo video, see you next time, buona!